Cosa vuole tagliare Vito? Cosa vuole tagliare? Occhio che magari ti tira la moto indosso E' un po' imprevedibile Ma non ho capito se vuole andare di la o di qua Aspetta che vuole fare la curva qua Fa la curva qua? Non lo so, non l'avete capito E' arriva Cerede E' arriva Tony Boccomontesa Ceri fa la curva prima Adesso fa il ganasso Cerede E' vabbè ma lui può Preoccupati che si ammazza Stai adesso per le 1.30 Si tanto pugnussi Dai! Oh mio che lo sai di qua? Il vuoto E' ancora in florenzo E' ancora in livello di estante Ciao Marco Adesso rifare Che cosa vuole Che vuole Voglio fare lavenza prova a fare la curva dopo basta perché ti metti che è troppo rimasto grazie andate a bagnese, vai se dove vuoi vai se dove vuoi e lo mette fuori e lo mette fuori adesso hai capito perché gli è messo la malina eh eh e l'arte ah ah bravo bravo è sicuro di largarla un po' di più ha detto ma che allargava la tronca puoi chiuderla piatta allarga la tronca no eh